Musica Bentornati Salve a tutti Ole Miss contro Alabama Crimson Tide Evviva Un partitone Un altro bagno di sangue Per i poveri ragazzi di Ole Miss Però si prospetterà un partitone Guarda credo che a questo punto Lo scopo di Ole Miss Mi piacciono queste riprese Molto Never quit Quanti schiaffi ci ha preso All'immezzo Secondo me prima c'era i capelli Lo scopo è Evitare di fare una figura Una grandissima figura di merda Deve essere sempre così scurrile Ok cercare di fare una pessima figura Allora siamo subito 7 a 0 Come partiamo A metà del primo quarto Vabbè il primo quarto Ci siamo Vediamo cosa va Retra E comunque sei al terzo e dieci Eccolo Molliamo subito Un bellissimo intercetto Al terzo e dieci Dov'eri prima? Prima a correre Qui si corre Perché la fiducia del mister Verso Mike Witch Credo che sia il minimo Di storia Lo possiamo rivedere in questo replay Ops Guardate Io mi rendo conto Il nostro bellissimo è guarda Allora siamo 0 su 4 Un intercetto Perfetto proprio Eppure è appena subito un sec Straordinario Io mi rendo conto che con questi numeri La fiducia non può aumentare Ma se non lo fai giocare Su povero ragazzo Poi guarda Il ragazzo Terzo e uno Secondo e dieci Prende una manica di botte Se regge la tasca E gli danno il tempo Di trovare Se regge la tasca E il se Sempre Un'altra giocata Del secondo quarto Sempre quattrocese Andare all'intervallo All'intervallo Su questo punteggio È un partitone Di crollare miseramente Su una screen pass Finalmente Una giocata degna Di questo nome E direi Prende qualche yard addizionale 2 su 9 47 Un intercetto Una bella corsa è stata Siamo di nuovo Verso la fine del secondo quarto Un'altra sconfitta in casa Che sarebbe devastante Devastante Sì Anche perché poi Vediamo questa giocata Ottima Uh si libera E stavolta va E va E touchdown Grandissimo Il numero 85 Che non ci ricordiamo mai Come si chiama Ma Ovviamente 6 punti schios Torna a sudare Sai se funziona il cannone Funziona Non funzionava Non lo usavano Da un bel po' Guardate qui il 99 Che blizza Il 94 I due lembra che blizza Comunque perdere in casa Sarebbe un altro colpo duro Perché la tua tifoseria Inizierebbe Vabbè Guarda Io penso che se tu Scegli di far giocare Un freshman Il primo anno In un programma Come quello di Ole Miss Vuol dire che è un anno Di rebuilding Sì Ma sono stati chiari L'hanno detto 4 su 11 Guarda Siamo a metà del Poco dopo La metà del Perché fa tutta la differenza Dell'universo Sì Ah questa è una traccia Che conosce La course Eh ma molla un intercesto Eh la conosce così bene Che molla Che anche gli avversari Sanno che predilige Però guardate Il ragazzo ci ha messo Per rimediare E siamo al secondo Pure un tackle Utilissimo nel suo ruolo Ma che ruolo è 5 su 14 Poveraccio 17 a 7 Siamo nel quarto quarto State perdendo Vabbè Stiamo a prendere 47 punti Come Dei giocare Bulldog Oddio 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 Chiude No Secondo le 10 Spero dai Ci mette sempre la faccia 6 e 18 90 yard Un td e due intercetti E dai Non è proprio Sono numeri Non è proprio Una merda assoluta Certo Sarà difficile Che quest'anno Passi alle Corale Corona Che Diciamo se trova la traccia E l'ha trovata Meno concure qualcosa Sto ragazzo Quindi 3 a 7 No Diciamo che probabilmente Quest'anno Sarà un anno Di lacrime e sangue Di crescita Di passaggio Di Guarda c'è Ah lo trova L'X libero Perché l'X È wide open E si ricorda Di questi numeri 9 su 22 Dai Non si può affrontare 9 su 22 È meno del 40% Cioè perché Che non torna a zappare la terra In testa A scavare il deserto Ma poverino Ma che si fa Come l'allenatore Non c'è fiducia Io non è che non ci voglia Ave fiducia No no Tu non ci stai Ave fiducia È diverso Quindi 3 a 7 14 secondi Dai Mettiti realmente Nei panni di questo poverino Tu Cosa faresti Insisti Eh insiste infatti Ricordiamoci Che pere Non è lui la squadra Dai 10 su 24 Poco più del 47% Sì Mi stai sentì Sì Eh Ma sono distrutto Perché mi dispiace Perché il ragazzo Si impegna Eh appunto Si fa anche le corse Tu poi fai fanball Per fortuna che è finita la Sì ma è una squadra di merda È finita la Siamo seri La partita Quindi Eh Perché si dispera Prova a cuore 23 a 7 Insomma Poteva andare molto peggio Quello sì Ma non può essere una consolazione Che poteva andare molto peggio Non sono queste Le partite in cui puoi vedere un quarterback Come un freshman come questo Rischia che l'anno prossimo non starta Rischia che l'anno prossimo riscalda la panca Eh Perché questi Vabbè Play of the game Un ennesimo fumble Derisi da I tifosi Vabbè Però possiamo dire Era l'Alabama Non era proprio la prima squadretta Di quattro Sì 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 Non era la prima squadretta In tre settimane Hai affrontato Georgia Bulldog Alabama Non è proprio la cosa più facile Questo fa Ecco L'ora di mettere Da te calvi Per 144 iate 3 td Per più o 4 sezioni Deve morire Ma no Ma perché Era pure un rivalry game Che cosa triste Ecco Eh infatti Sì Diciamo che c'è Malumore Sì Prostima quindi On the world Perché abbiamo giocato in casa questa Chissà cosa capita Fuori casa Bisogna guardare il calendario Che mi dovrei procurare E mettere sotto mano Per sapere sempre Sì sarebbe una cosa Utile Decisamente utile Poverci Sì ma i numeri ce l'ha Poverino Sì poi Dovrebbe essere più Dovrebbe avere più consistenza Cioè avere un livello Anche scarso Però mediamente scarso Sì ma è Frassagliato Io me lo immagino così Un po' sì Un po' no Un po' avvolto Un po' 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 Va bene ragazzi Vi salutiamo su queste immagini Alla prossima Ciao 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 Un po' Un po'